Un saluto affettuoso a tutti. Volevo che questo saluto fosse diverso, un incontro di persone, guardarci in faccia, una relazione molto bella, ma ancora non è possibile. Speriamo al più presto. Ora però voglio offrire un pensiero di conforto e di fiducia. Noi abbiamo un Padre speciale, un Padre misericordioso, un Padre che ci vuole bene, ci ama, non ci abbandona mai. Siamo Suoi figli. Questo Padre è il nostro Dio. Lui ha mandato per noi il Suo Figlio Gesù per salvarci. A Lui ci rivolgiamo con la nostra preghiera, la nostra supplica e diciamo Padre misericordioso, abbi pietà di noi, vieni in nostro aiuto che siamo Tue creature, Tuoi figli. Liberci da questa epidemia che ci consuma. A Te Padre ci affidiamo. A Te Padre vogliamo che Tu sia quel Padre buono come di solito lo sei. Fa che ciascuno di noi riceva da Te questo dono, questa grazia, di essere liberi, sinceri, veri e di essere con Te gioiosi. Te lo chiediamo, Signore, Ti ringraziamo fin da adesso e Ti diciamo, Padre buono, ascoltaci. Rivolgi allora a Tua benevolezza. Ti preghiamo, così sia. Rivederci.